benvenuti in questa nuova pausa caffè oggi una pausa caffè alternativa perché voglio parlarvi di un nuovo progetto ma prima Aldo Ricci presenta pausa caffè pausa caffè girano i dischi di Aldo Ricci allora non so se mi state seguendo su Instagram ma sto in questi giorni testando un nuovo una nuova tipologia di comunicazione la smetti di entrare con questa testa comunque sto cercando di creare qualcosa di diverso smettila sto cercando di preparare qualcosa di diverso per voi se ci avete fatto caso nello specifico sto creando delle dei post che rimandono a delle storie e queste storie in tre quattro step cercano di spiegarvi come ho creato la fotografia il video quello che è che sta all'interno del post è molto immediativo come discorso mi porta via un po di tempo le pose pranzo le sto praticamente salutando perché devo preparare questi questi post queste storie quest'anno ho deciso di portare con me tutti i giorni la fuji che sia la x t3 che sia la x100 f che sia la x h1 per raccontare ogni giorno con una fotografia non è facile non sarà facile farlo per 365 giorni ci sto provando e ogni giorno racconto quello che ho fatto con la fotografia e poi spiego come con la fotografia è nata ovviamente oggi magari faccio vedere un paesaggio domani posso far vedere magari un attrezzatura poi faccio vedere una fotografia da un set faccio vedere lo studio insomma quello che succede durante la giornata cerco di raccontarlo per rappresentarlo con una fotografia ovviamente voi per seguirmi avete lo stesso instagram avete il gruppo facebook vi lascio sempre qui qua sotto dove lì faremo due dirette al mese dedicate solo al gruppo facebook e una volta al mese chiederò in quel gruppo di condividere i vostri lavori e li guarderemo e commenteremo insieme in più c'è il canale telegram che è una sorta di gruppo facebook dove pubblico tutte le tutti i giorni alle 12 la fosa caffè ma lì in più pubblico tutte quelle che sono le offerte interessanti che trovo su amazon sapete benissimo che tutto quello che prendo lo prendo da amazon che sia una calzata da 10 euro che sia la cosa più interessante da 100 euro comunque tutto quello che trovo lo metto là sopra perché molto spesso magari non si notano alcune offerte e quindi ve le condivido tornando al gruppo a quello che è instagram spero che questa sia una cosa che sia per voi possa essere per voi interessante per fare questo però bisogno del vostro aiuto ho bisogno di di saperlo ogni giorno se l'argomento era interessante l'argomento non è interessante io cercherò anche altri argomenti tipo quello della della macchina fotografica sospesa e quella macchina fotografica sospesa non l'ho pubblicata a caso perché quest'anno tutti gli oggetti che riceverò tutti gli oggetti che riceverò avranno un post con una fotografia fatta con quella tecnica lì che poi è semplicissima l'ho spiegata anche nelle storie fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto tutti i link aiutatemi a far crescere questa community soprattutto qui su youtube su vista che mi stiamo crescendo bene facebook nemmeno nomino perché tranne il gruppo per la pagina sinceramente ho perso le speranze fatemi sapere cosa ne pensate condividete metti iscrivete al canale è importante accendete la campanella che sta qui qui non lo so perché quando esce un video youtube vi avvisa ci vediamo alla prossima pausa caffè vuoi salutare cento incazzato comunque ci vediamo alla prossima pausa caffè ciao girano i dischi di aldo ricci